Soltanto se si può inquadrare molto questa parte qua. Un attimo, voglio capire se è la storia del mito, perché se è la questione del dito deve essere presente. Simone, regia curata da Francesco Di Carlo e Milena De Paolo. Mi serve un anello, prendo il tuo, vorrei prendere il mio, però prendo il tuo. Anche perché credo sia l'unica persona sposata. Vorrei presenti. Do quello che non vale niente. La fede? No, la fede è qua. Ah no, perché già tua moglie sta col coltello, cioè dici che pure la fede non vale niente. No, vediamo l'anello però. Allora, osservate attentamente. Qui va bene, ok, ok, basta, basta. Così va bene. Quindi l'anello si vede, no? Giusto? Ok, guardate attentamente. Vediamo se riusciamo a stringere ancora un po' di più l'inquadratura. Esatto, guardate, l'anello si vede? Adesso ti chiedo, mettite le mani così per favore. Ok, inquadrate bene le sue mani, così. Stringete, stringete. Ok, yes. Non spariscono, eh? Guardate, l'anello, osservate. L'anello lo faccio entrare dentro la mia mano lentamente. Va a trapassare lentamente la mano. Ok? Ci siete? Guardate, spezzo il mio dito. Lo stacco e poi lo rimetto. Attenzione, attenzione. L'anello si vede, si vede? Adesso, aspetta, aspetta. Ecco, così si vede? Sì? Sì, 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 sì. Attenzione, l'anello. Si vede? Perfetto. Osservate attentamente l'anello, si vede? Guardate. L'anello normalissimo. Guardate, l'anello lo prendo. Entra. E poi va a... L'anello sta dentro. L'anello va a trapassare. Mucho bene. Grazie. Grazie. Impressionante, un applauso. Maestro, maestro. A Simone Rossi. Respira, maestro. Sì, però poi lo rifacciamo con calma. Ma lo fai. Con lo sanno di rica. Ti sei scorda di qualche trucco di qualcosa? Niente. Sì, niente.